Beh, ripenso ancora a quei video di Andy Banks, ho paura che possa saltare fuori da un momento all'altro e spaventarci, potrebbe nascondersi ovunque, qui siamo troppo esposti, potrebbe farci prendere un colpo quando vuole. Tanda, ascolta, Andy Banks non è da queste parti, va bene? Te lo garantisco. Ora, andiamo a prenderci un gelato, come si smetterai di pensare a quello fuori?